Tutti dietro, tutti dietro! Tutti dietro, tutti dietro, tutti dietro! Apri, apri, apri! Apri, apri! Apri, apri! Nel foto le facciamo dopo! Apri, apri! 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 Cinque, quattro, tre, due, uno! Bravo! Bravo! Auguri! Tutto questo grazie a lei! Un discorso in tre parole! Tre parole, tre parole, tre parole! Un poco, un poco! Due parole, tre parole! Poi... Auguri! Grazie di questa felicissima sorpresa! Che sei? Hai visto? Ciao! Auguri per me! Vai! 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 Sì! Allora, sicuramente non te l'aspettavi! Ma noi ci siamo ricordati che è un giorno speciale! Buon compleanno, Giuseppe, dai tuoi amici! Ehi! Un po' di Rita! Trova bene, bene! Via Snappone!